È un ruolo di prestigio che da tanto tempo non veniva affidato a un esponente della provincia di Foggia che cercherò di adempiere con quei valori che rappresento, quindi portare lì sicuramente tutto quello che di buono c'è in Puglia. Il consigliere regionale foggiano Gianicola De Leonardis nella terna dei grandi elettori della regione Puglia. Il vicepresidente del consiglio regionale di Fratelli d'Italia è stato infatti eletto con 15 preferenze tra i delegati della regione che contribuiranno a partire dal 24 gennaio all'elezione del prossimo presidente della Repubblica. La terna si completa con il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, espressione di 31 preferenze e con la presidente del consiglio regionale Loredana Capone, eletta con 30 voti. I salviniani avrebbero puntato su Paolo Pagliaro, capogruppo della Puglia domani, così come aveva comunicato la scorsa settimana lo stesso segretario regionale della Lega, Roberto Marti. Ma alla fine è prevalsa la scelta di privilegiare una carica istituzionale. Il centrodestra spaccato sia a livello locale che a livello nazionale, qual è il suo commento? Ma questo non mi sembra, ci sono delle discussioni come in tutte le forze politiche, forse noi le facciamo emergere di più rispetto agli altri, però alla fine si trova sempre la sintesi e si trova il modo per andare avanti in maniera chiara e convinta. è propositiva, al contrario di quello che sta succedendo in Regione Puglia, come vedete sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo per la gestione Emiliano. Sull'autocandidatura di Berlusconi un commento? Lui ha espresso questo desiderio, è al vaglio delle forze politiche di maggioranza e probabilmente non basteranno i numeri del centrodestra, quindi bisognerà capire se le forze di centrosinistra, di 5 Stelle, come si vorranno portare e rapportare in relazione a questa candidatura. Staremo a vedere quello che succede nei prossimi giorni. Un'ultima cosa, come vedrebbe una candidatura tutta in rosa? La vedrei molto bene, è arrivato il momento che ci sia una donna a guidare il capo dello Stato, ci sono tante donne che potrebbero fare, chissà che non sia questa l'occasione giusta, mi piacerebbe votare una donna. Grazie.